Social Stars è la piattaforma dove l'impegno sociale prende vita e acquista nuovo valore. È una piattaforma nata per diffondere progetti di responsabilità sociale e far incontrare operatori, cittadini e volontari. E inoltre, favorire un sistema di scambio capace di essere utile per tutti. La app e il sito raccolgono e organizzano informazioni sui progetti socialmente utili, permettendoti di seguire i tuoi specifici interessi e di scoprire solo gli eventi che ti stanno intorno, oppure quelli di rilevanza globale. Social Stars ti aiuta a diffondere i messaggi che ti stanno più a cuore e portare quindi nuovo valore alle cause che ti interessano. Ogni volta che aiuti una causa che ti interessa, segnalandola ai tuoi amici o prendendovi parte attivamente, ricevi in cambio un numero di stelle sociali. Le stelle sociali ti permettono di tenere traccia del tuo impegno sociale e distinguerti per il tuo contributo, così da dare un valore concreto alle tue attività. Le stelle sociali diventano quindi il tuo profilo virtuale, un modo concreto di dare valore all'impegno dei volontari e delle associazioni che contribuiscono a rendere migliore la nostra società. Social Stars diventa una stella dell'impegno sociale.